E là, come va? Io sono Lorella e questa è la famiglia Kemp, esattamente la Legacy Challenge. Vediamo la nostra Gabri che nello scorso episodio ha dato delle lezioni di yoga con un discreto successo e quindi adesso sta registrando il suo lavoro, la sua professione al Ministero del Lavoro. Quindi scriviamo insegnante di yoga, praticamente perfetta. Eh sì, perché ha raggiunto già l'illuminazione, diciamo, va? Ecco qua. Ok, oggi è una giornata un po' speciale perché durante la serata ci sarà la regnone di famiglia. Ma non vi ho detto la cosa più importante. Ho tolto l'appartamento in affitto e l'ho reso residenziale. Cercheranno dei conquilini perché non era per niente remunerativo. Dunque, dicevo, ci sarà una bella regnone familiare. Allora, quindi qua andiamo a pensare. Lei ha pensato di fare delle pizze. Già che ci stiamo, aggiungiamo un po' di cose qui. Aggiungo indistruttibile e cottura veloce. Ecco qua. Perfetto. Ok, quindi cominciamo a fare una bella pizza. Facciamo intanto una bella focaccia alle erbe. E poi, una bella focaccia alla diavola. Il nostro Nicholas è a scuola perché vi ricordo che lui ancora è un adolescente. Intanto si va a vedere un po' di tv. Ecco qua. Con la sua bella cagnolina. A cui da fastidio al televisore. Oh, la pizza è pronta. Oh mio Dio, poverino, non è responsabile. Povero. E adesso facciamo appunto la pizza alla diavola. Ecco qua. È una giornata piovosa oggi, eh. Ma sta andando male a scuola, Nicholas. Oh mio Dio. Non è responsabile. Cacchio, Nicholas, ti devi tardare a fare, eh. È tornato a casa? Eh sì. Mannaggia. Vai a fare una passeggiata con Missy, anche se piove. E poi mettiti a studiare, per favore. Oh mio Dio. Credo che questo sia un probabile inquilino. Però è un anziano. Quindi no, non ci interessa. Allora, lei nel frattempo ha finito di preparare la pizza e mettiamo tutto in frigo. Ecco qua, così la cena è pronta. Poi passerà l'aspirapolvere. Ecco qua. Lui nel frattempo si sta bagnando e sta portando Missy a fare la pipì. Missy che vede gli altri animalucci. Sì, però se tu ti mettessi l'ombrello non sarebbe un po' meglio? E poi fai ricorso ai compiti, eh, quando torni. Caro il mio Nicola, se ti metti anche a studiare per l'esame che oggi è già mercoledì, eh. Lei sta pensando al suo fratello, Matteo. E intanto si vedrà un bel film. Intanto la cena è pronta. Io spero che arrivi qualcuno presto per i coinquilini. Eccolo lì il nostro Nicola. Meno male che ha smesso di piovere. Ah, ma quanto abbai, Missy? Eh beh, è una Yorkshire. Eh. Lei ha abbastanza fame, eh, già. Il nostro Nicola sta ancora passeggiando. Voglio vedere quando fai i compiti questo, eh. Vabbè, però almeno si riprende un po' pure lui. Mamma mia, che brutto film che stai a vedere, Gabri. Eh, è finito. Vediamo su com'è la situazione della polvere. Controlla il livello della polvere, vai. Ah, già, dovevi andare prima al bagno. Eh, scusa. Fra qualche ora arriveranno gli ospiti. Vai, vai a controllare la polvere, tesorina. Com'è la situazione? Che qua si viene qualche inquilino nuovo. Ok, è pulito. Bene, molto bene. Dove te ne vai adesso? No, no, non mangiare, che poi dopo devi mangiare. Eh. E questo chi è? Oh. Ah, la pecorella. Oddio, presto. Puliscila. E nutrila. Poveretta, c'ha ragione. Corri. Eccola, si è subito alzata. Che carina. Me l'ho dimenticata che c'era la capretta qua. Ok, è pronta per la mongitura e a sto punto la mongiamo pure. Oh, tra poco arriveranno gli ospiti, eh. C'è qualcuno che si fa viva o no? Oh, ecco qui. Dacci un po' di latte. Mmm. Ah, ma quella è Lilibet che sta arrivando. Allora, vediamo un po'. Ce l'ha dato il latte? Sì. E lo andiamo a mettere subito in frigo. No, che stai a fa'? Una pizziana marinara pure. Oh, eccola. Che è tristissima. Allora, mettiamo un latte in frigo. Ok. E la nostra Lilibet è tristissima perché con quello che sta passando col suo fidanzato... Guardate che faccia, poveretta. Ciao, sorellina. Come stai? Ah, entra pure. Ecco, le vado a avere le scarpe. Vai, iniziamo. Sei, forse è il caso che tu torni a casa? Vai al bagno prima, va? E poi almeno fai i compiti. Almeno quello. Wow, tutti i vestiti di punto. Che carini. Allora, adesso dobbiamo aspettare. No, no, non cucinare, per favore. Ho capito che c'hai fame, ma... Ma no. Oddio, lei vorrebbe avere dei figli, mi sa. Apparecchia la tavola. Oh, mamma mia. Ma che tim... Ah, il fratello. Matteo. Allora, un attimo. Svuotiamo la bacheca. E lui comincia ad avere qualche timore. Ma Lilibet. Ma un altro panino. Madonna. E stavolta lo riporrà lui, eh. Ah, ma lui deve fare pure i compiti di recupero. Mamma mia. Ciao. Ciao, fratellino. Come stai? Lilibet si è data la macchia. Ok. Oh, meno male. Adesso è responsabile. Mettiamo i compiti via e... E cerchiamo Lilibet che è sparita nel fratello. Boh. Allora, facciamo così. Formiamo un gruppo, va? Ecco qua. Non, 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 non mangiare, non mangiare. Che pizza con sti panini, oh. Mi sta ad erovina... Tutta la tavola. Ecco, sedi. Ah, vabbè, ma lui non c'entra niente, però è il cugino. Ma andiamo via. Non ho dovuto invitare per forza perché ce ne volevano quattro. Ecco, ciao, ciao, Gabri. Ciao, 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 ciao. E chi è tutta sta roba? No, ragazzi. Riponi e riponi. Oddio, che è morto, mo? Ecco, dai. Oh, bravo. E chi è morto? Missy è morta. Oh, no, è morta Missy. Oddio, quanto mi dispiace. Allora, spostiamo. Eccola. No, lasciate un'offerta. Oddio, no, ma perché devi mangiare? Allora, aspettate, che questi fanno come gli pare. Apri. Questa si è messa al letto, no, vabbè. Mettiamogli questo di vestito, è più carino. Eh, vabbè. Oh. E Missy la mettiamo nel giardinetto. Per forza. Ecco, qua. Oddio, c'è stata la tomba. Vabbè. Oh, sedetemi. Chiama a tavola, vai. Ma che fanno? Se ne vanno tutti. Oh. Sì. Non devi andare a letto. Ti devi metto a mangiare. Forza, vieni a tavola. Ah, loro mangiano sul divano. Vabbè, fate come vi pare. Chi è cena del cavolo? No, no, non andare a letto tu, eh. Non ti azzardare. Mm. Oddio, lui è proprio stanco. Ma no, tesoro mio, però. Cerca di resistere. Oddio, sai di perché piange? Eh, tanto vale. Che parlate qui. Rialzati, per favore. Dai, mettetevi a tavola. Sorellina, ti vedo un po' triste. Che succede? Le cose non vanno molto bene col mio fidanzato. Invece tu? Come va? Beh, me la cavo. Oddio, sedi. Ma io sto studiando. Io non so davvero più come fare. Prima era più dolce. Io l'ho conosciuto così. Mi dispiace molto per il vostro cagnolino. Lei se la ride, l'ho capito perché... Vabbè. Sedi, se ti siedi pure tu, però, ci fa un gran favore, no, eh? Oh, brava Sedi. Allora, qui per Sedi mi dà entusiasmo per il matrimonio imminente. Non capisco perché. Ho paura. Il lato positivo sembra che Nicolas abbia appena stretta amicizia con un sim ottimista. I sim di questo tipo hanno una visione della vita che li porta a vedere il bicchiere decisamente mezzo pieno. Non mancano mai di guardare il lato positivo delle cose e il loro punto di vista può ispirare i sim che li circondano. Certo che li gradisce i sim ottimisti. Ma lei, Gabrie, è molto preoccupata per la sorella. In realtà, c'è qualcosa che puzza. Ecco, ti pare? Senti, questa che si mette a pulino, vabbè. Sorellina, ti prego, c'è qualche problema? O se vuoi stare qua un po' di giorni, dimmelo. Ma non preoccuparti, è tutto ok, sarà una cosa momentanea. Tranquilla. Sì. Ti preoccupa troppo? Io non la capisco a volte. Ah, lui si è andato a letto, poverino. È proprio stanco. Accidenti, dovrei scrivere un libro. Solo yoga. Sì, sei sempre stata brava a scrivere. Giusto? Sì, penso sia una cosa molto positiva. Bene, la riunione di famiglia è finita. Allora vi ringrazio per essere venuti. A me piacerebbe suonare qualcosa. Tesoro, stai attento a quel ragazzo. Avanti, siete troppo pessimisti. Se devo dirti la verità, non mi è mai piaciuto. Sembra un lama. Ma, ma, ma che dici? Dov'è il fratello? Se n'è andato, già. Eh, mi sa di sì, non può anche, non può nemmeno chiedere di aiutarli. Qui l'ha pulito il piatto. Oh, bene andatevi, vi voglio tanto bene, però. Eh, andatevene. Non capisco che cos'è che puzza, ma vabbè. Ma eccolo il fratello. No, andate a dormire lei, vabbè, mi ha pulito tutto. Eh, però andatevene a casa. Vabbè, Gabriele e Nicola se ne sono andate a letto, che sono distrutti, vabbè. Hanno lasciato parlare loro. Mamma, a dirti la verità, sono un po' preoccupata. Vorrei dei bambini, ma lui... Non so che reazione potrebbe avere. Non so se si arrabbia, non lo so. Oddio. Che fanno? Se ne vanno? Ah, vabbè, se ne vanno così, all'improvviso. E vabbè. Ragazzi, guardate il video nella schermata finale. Se vi è piaciuto il video lasciate un like. E ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao, ciao!